Marco Travaglio, allora più soldi in busta paga per i redditi più bassi e anche però più precariato nei contratti e anche una notevole riduzione del reddito di cittadinanza. Qual è il tuo giudizio sul decreto lavoro di Giorgia Meloni? Molto più negativo di quello che abbiamo dato su tutte le sparate che hanno fatto nelle ultime settimane su Via Rasella, sul 25 aprile, perché qui non sono parole, questi sono fatti e sono fatti molto gravi. Intanto si lasciano praticamente alla fame 800 mila famiglie in più che non avranno più la copertura del reddito di cittadinanza perché hanno la sfortuna di avere il capofamiglia occupabile, cioè disoccupato. Si penalizzano tra l'altro le famiglie che hanno fatto molti figli in totale contraddizione con le politiche pronatalità che questo governo dice di propugnare. Si ha l'obbligo di accettare pena la perdita del reddito, qualunque offerta, ovunque sia, anche in capo al mondo, purché il lavoro che ti offrono sia di almeno un mese. Se ti offrono di lavorare almeno un mese, tu perdi il reddito di cittadinanza, poi finito quel mese, addio. Tornano i voucher in grande stile, cioè il lavoro schiavistico praticamente a ore e in più c'è un buco enorme che è la voce entrata, cioè non si capisce dove tutto questo regno di Saturno che nel reality, fatto dalla Meloni su se stessa con i ministri di sfondo come comparse, parlava di questo regno di Saturno ma non si sa dove prendano i soldi, infatti hanno tagliato il cuneo non fiscale, magari contributivo, ai lavoratori, ma soltanto per 5 o al massimo 6 mesi perché non si sa dove sia la copertura e lo concentrano su pochi mesi proprio per poter dire che l'importo è più ampio. Non ci sono voci di entrata, anzi ci sono 12 condoni più il tredicesimo che sta arrivando e quindi le entrate diminuiranno sicuramente perché quando c'è un condono il segnale a tutti è quello, evadete tranquillamente e aspettate il prossimo di condono. Il tesoretto di 4 miliardi è di 2,9 miliardi perché il miliardo e 100 che manca ce lo mettono i lavoratori, perché naturalmente se ti tagliano il cuneo contributivo che cosa succede? Succede che ce li metti tu i soldi perché le maggiori imposte versate per effetto della riduzione dei contributi creeranno un aumento delle tasse, quindi praticamente con una mano ti danno i soldi e con l'altro ti riprendono per finanziare quelli che ti danno, è una partita di giro, poi per carità chiunque abbia anche un solo euro in più in busta paga è grasso che cola, però diciamo che il bilancio finale di questa roba qua secondo me è terrificante, ci preannuncia uno scontro e un massacro sociale che si dovrà ritorcere per forza contro questo governo perché questa maggioranza non è andata al governo per i voti dei ricchi, è andata al governo per i voti di un sacco di persone umili e in condizioni difficili che evidentemente si aspettavano altro. Allora la sostanza qual è? Che molti critici, compreso Marco Travaglio, descrivono un clima appunto in cui il governo Meloni sta spingendo il paese giù dal baratro e persino il Financial Times a dispetto di tutte le cassandre, qui compreso anche il Marco Travaglio, dei mesi scorsi ha scritto che almeno al momento non si scommette più contro i titoli italiani perché la destra che andava al governo sfasciava i conti, distruggeva il paese, riportava il fascismo e tutto il resto, i conti forse non li ha sfasciati. Qualche punto diciamo così di consenso… La sola di queste cose, non ho capito. Io ho detto che arrivava il fascismo o che andavamo al default, io non l'ho mai detto, ne ho pensato. Anzi questa è una politica di austerità che piace moltissimo ai falchi europei e ai mercati. Non abbiamo capito Marco Travaglio come si intenda incentivare la natalità, a cominciare dai giovani ovviamente, con decreti lavoro e altre misure, nel senso che questa è una delle domande che i giornalisti avrebbero voluto fare al Presidente del Consiglio ieri perché siccome Giorgia Meloni ha detto che è molto fiera di questo decreto lavoro, non si capisce perché, visto che era giustamente così fiera, non abbia fatto una conferenza stampa da due mesi non ne fa e così avrebbe potuto rispondere anche alle tante domande oggettivamente in campo di tante questioni che non abbiamo capito. E anche tu dicevi prima Monica Taglio delle tasse sul lavoro più importante degli ultimi decenni e il fact checking che è stato fatto oggi e che anche credo voi Marco del fatto, abbiate fatto, state facendo, dimostra che non è così. Stiamo mettendo in pagina per domani un naso lungo come Pinocchio praticamente in quel video. Ecco ma perché non ha fatto questa conferenza stampa visto che insomma c'erano tutte queste belle e buone notizie da dare? Forse perché si ricorda ancora la catastrofe dell'ultima conferenza stampa che è quella di Cutro che è stata un'apocalisse dal punto di vista mediatico, un disastro di impreparazione, di imbarazzo che poi purtroppo si concluse con l'infausto karaoke sulle note di Marinella. Ma lasciamo stare, il problema qui è che secondo me ormai si sta investendo ma non è la prima volta, queste sono le stesse politiche sociali del Renzismo, sono le politiche sociali che piacciono alle cancellerie europee e ai mercati perché vanno addosso ai poveri. Gli 80 Euro di Renzi andavano in media a chi aveva 1500-1600 Euro al mese, cioè a chi lavorava e a chi aveva uno stipendio. Qui si investe sul fatto che i poveri non vadano più a votare e quindi non li si calcola proprio, tu dicevi le elezioni europee, loro sperano che i poveri non vadano a votare perché se i poveri vanno a votare cambia completamente la composizione dell'elettorato e escono massacrati viste le politiche di guerra ai poveri che stanno facendo, loro stanno scommettendo sul fatto che vadano a votare soltanto i garantiti, poco o tanto però garantiti. E i ragazzi come la studentessa che abbiamo appena ascoltato si disamorino a tal punto da restarsene a casa, è la loro unica speranza, perché chi fa questa politica non può che sperare in un astensionismo alto, perché sta completamente tagliando fuori una periferia sociale che però è sempre più numerosa, perché scusami tu dici fate figli, poi le famiglie con l'occupabile dentro gli levi il reddito di cittadinanza e penalizzi quelle che hanno più figli, quindi gli dici pentiti di averne fatti tanti perché io ti aiuto poco in qualità del fatto che tu hai avuto molti figli. Dopodiché uno che deve fare un figlio adesso, ma scusa un attimo, stanno triplicando la durata consentita dei contratti precari che può arrivare fino a 24 mesi, col decreto dignità avevamo abbattuto il precariato, adesso tornerà a esplodere il precariato, legalizzato, non sto parlando di quello illegale del lavoro nero, sto parlando di quello legalizzato, i voucher, ma con un voucher o con un contratto di pochi mesi, prorogato fino a 24 mesi, ma chi te lo fa un mutuo? Ma come fai a mettere su famiglia? Soltanto un pazzo mette al mondo un figlio con un sistema sociale, con un mercato del lavoro rimodellato come prima del decreto dignità, cioè prima del 2018, è una semplice follia, l'unica speranza che hanno questi qua è che quelli che in questo momento loro stanno massacrando si arrendano e non vadano a votare, perché se vanno a votare per forza si ribelleranno. Giustamente Monica diceva, Renzi gli 80 Euro li ha fatti la settimana prima delle elezioni europee dove il PD andò al 40%, ma qui la gente avrà un anno per rendersi conto dei balsamici effetti di questo decreto lavoro, se non arriveranno tutte quelle montagne di soldi in busta paga in più che lei ha promesso ieri in quel video, che potrebbe diventare un boomerang, la gente ha tutto il tempo di accorgersene prima delle prossime elezioni, altro che l'una di miele. Non è che sia una cosa nuova, lo ricordavo prima, decenni fa Silvio Berlusconi mandava le cassette delle sue performance solitarie alle redazioni dei telegiornali, soprattutto dei telegiornali, ovviamente trattandosi di video e di immagini. Quindi cosa c'è di diverso e di nuovo questa volta? Ma dato che Giorgia Meloni, noi la conosciamo, non è una che tira indietro la gamba, è una combattente. Se fosse veramente orgogliosa e fiera di quello che ha fatto ieri, secondo me ci sarebbe andata con tutte le scarpe a fare la conferenza stampa. Ho l'impressione che dica di essere fiera e che si renda conto che questa roba qui è una partita di giro e che ci sono troppi tecnicismi che appena uno va a leggere che cosa hanno scritto nelle varie bozze, poi hanno detto, contraddetto eccetera, l'avrebbe messa in difficoltà. Quindi ha preferito evitare, ha preferito farsi lo spottino e buttare la palla in avanti, aspettando che appunto, come diceva prima Zullo, una prossima occasione, poi quando la tensione si sarà un po' stemperata, quando avranno qualcosa di serio da dire, per esempio su questi famosi percorsi di formazione a quelli a cui tolgono il reddito, perché tanto gli rolevano, poi i corsi di formazione si vedranno, le politiche attive si vedranno, forse si vedranno, non lo so, ma io credo che lei stessa si renda conto che è una mezza sola, detta alla romana, quello che hanno fatto ieri, l'hanno voluto fare per forza, in fretta e furia, non si capisce nemmeno bene quando finisce, perché nella bozza del decreto del 30 aprile dicevano che finisce a novembre il taglio del cuneo contributivo, ripeto non fiscale, è contributivo, adesso dicono che a fine dicembre però devono cambiare la bozza, insomma è tutto abbastanza a sabbie mobili e in più quando le chiedono scusi ma lei toglie subito il reddito di cittadinanza e poi il resto si vede e qualcuno che rappresenti la nostra amica studentessa che dica cosa vuol dire poi si vede e noi nel frattempo che cosa facciamo? E la risposta qual è? È molto meglio farsi il filmino con Palazzo Chigi a fare da coreografia e poi i ministri a fare da comparse, perché altrimenti in una conferenza stampa dove ci siano dei giornalisti esperti che finalmente prendano in mano le cose e facciano le domande, non so chi ne sarebbe uscito vivo, perché questa roba qua è tutta roba imbarazzante, scusate ma quello che dicevo prima, ma ti pare che tu prometti 4 e poi 1 miliardo e 100 milioni li mettono i lavoratori perché gli calano le detrazioni, gli aumentano le tasse, ma si può continuare a prendere in giro la gente dandogli 4 e levandogli 1 perché 4 fa più bella figura di 3, ma allora dargliene solo 3 invece di fingere di dargliene 4 e prendergliene 1 dalle tasche, ma cioè oltre al danno pure la beffa?